Creare un ponte tra noi e loro serve soprattutto per mitigare quelle che sono le criticità che si trovano in città e che poi dobbiamo noi come Polizia Municipale affrontare ogni giorno. Ad Arezzo arriva così un corso di educazione stradale per stranieri. Le lezioni permetteranno agli alunni di conoscere terminologie e regole utili alla guida, con l'obiettivo di facilitare il conseguimento della patente. Sappiamo che ci sono molti incidenti, basta pensare al numero di incidenti di violazione delle regole stradali per rendersi conto dell'importanza di questa iniziativa. Un'iniziativa che promuove la conoscenza delle regole e il rispetto delle regole. Quindi in ogni territorio ci sono delle regole e chi abita il territorio le deve acquisire, le deve conoscere e chiaramente le deve rispettare. Non esiste una vera integrazione senza la conoscenza e il rispetto delle regole. Il corso di educazione stradale si articolerà in cinque lezioni. In presenza presso il centro di Villa Severi o qualora l'affluenza fosse alta, sono previste anche sezioni online o in un altro istituto più capiente. Abbiamo questa doppia modalità vista la situazione Covid e soprattutto per raggiungere anche tutti gli studenti delle sedi Bibiena, Sansepolcro, Montevarchi. Quindi l'opportunità appunto di poter seguire anche online sulla nostra piattaforma istituzionale del CPA inizieranno il 5 di maggio. Verranno svolte ogni mercoledì dalle 18 alle 20 fino al 9 di giugno. Il progetto è promosso dal CPA e realizzato grazie al supporto della Polizia Municipale e del Comune di Arezzo. Che questa è stata un'iniziativa che devo ringraziare sia l'assessore Carlettini che la scuola che ci ha dato l'opportunità di ampliare l'educazione stradale a tutte queste persone che vengono da paesi esteri, che conoscono molto meno la nostra lingua e le regole del codice della strada. affinché si facilitano nell'inserimento e nell'apprendimento sia per l'acquisizione della patente di guida sia per diventare dei buoni automobilisti.